Dopo circa tre giorni è stato domato l'incendio che ha decimato la macchia mediterranea dell'isola di San Domino alle isole Tremiti. Le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati gli squadre della protezione civile dei vigili del fuoco e della capitaneria di porto, nonché due canadeira ed un elicottero dei vigili del fuoco. In tutto sono stati effettuati 36 lanci di acqua sull'isola. Ricordiamo che molte persone sono state salvate mentre si trovavano in spiaggia o anche nelle case di residenza. La vasta area verde che ricopre San Domino è stata decimata quasi in tutto. Sono in via di svolgimento in queste ore le attività di bonifica per evitare nuovi focolai. Nino Siena, Speciale News.